Buongiorno a tutti 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 un po' voi, e quindi andare a fare un po' lì, non venivano fatte la radio, però cosa fate è molto tutto, l'abbiamo piassato che non è un discorso, non si, e quindi qui vi faccio un'emozione a tutti, chiaramente faremo la foto per tutti, quindi non c'è bisogno di indirizzare, noi non ce ne vedremo, perché vi ha fatto la foto per tutti, quindi allora ci raccomandiamo, non spingete ragazzi, ok, non spingete, loro sono qua, con noi guardate qui, tranquillamente, tranquillamente, salite qui sul palco, ok, si guardate nulla, amore, un'altra cosa, ci sono anche dei ragazzi molto, molto giovani, davvero tra il sede, facciamo un passo indietro, per favore, facciamo un passo indietro, tanto salite tutti, ok? allora, io adesso, se non fate la calcola avanti, prometto di lasciare la facoltà esterni, molto complesso. . Grazie a tutti per aver guardato il nostro canale! Grazie a tutti. Grazie a tutti.